Ehi comandante, buone notizie. Sembra che il segnale di riconoscimento del razziatore sia finalmente pronto. Non è del tutto esatto, signor Moro. Il congegno è alimentato, ma causa una certa instabilità imprevista in altri sistemi. Consiglio analisi più accurate prima di provare a utilizzarlo. Non possiamo rimandare per sempre la missione. Quanto ci vorrà. Una scansione completa? Con questa roba chi può dirlo? Forse faresti meglio a prendere la navetta per questa missione. Farò in modo che sia tutto pronto per il tuo ritorno. Comandante, sono Miranda. Ho già informato la squadra. Ci incontreremo sulla navetta. Quando saremo più vicini alla nostra destinazione, potrai decidere chi portare con te. In tal caso immagino che scenderò alla navetta. Joker, la nave è tutta tua. Abbi me cura. Agli ordini, comandante. Ti sto dicendo, Ida, che le tue rilevazioni sono sbagliate. Sono solo radiazioni. Ho rilevato un segnale nascosto nei disturbi statici. Stiamo trasmettendo la posizione della Normandy. Trasmettendo? E a chi? Ah, merda! Andiamocene! I sistemi di propulsione sono disattivati. Rilevo un virus nei computer della nave. È un segnale di riconoscimento. Perché non l'hai eliminato? I sistemi difensivi principali sono offline. Possiamo salvare la Normandy, signor Muru. Ma deve evitare. Mi affidi la nave. Cosa? Sei pazza? Ci manca solo che tu cominci a cantare Daisy Bell! Sbloccando i miei database interdetti, potrò avviare le contromisure. Il condotto di manutenzione nel laboratorio scientifico la porterà al nucleo IA. I corridoi principali non sono sicuri. I collettori hanno abbordato la nave. Le luci di emergenza la guideranno, signor Muru. Dalla dannazione! Merda, merda, merda! Cercheremo di tenerlo occupato! Merda! Merda, 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 merda! 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 Rilevate diversi nemici sul ponte equipaggio. Gioca in ponte brulica di quelle cose Stammi vicino, ti proteggerò Merda, merda, merda Creatore a fusione principale offline Attivazione delle celle di carburante H di emergenza Che merda D'accordo, sono... da te Connetta il nucleo al modulo di controllo primario della Normandy Fantastico Vedi, si inizia sempre così Quando saremo tutti delle batterie organiche Indovina chi incolperanno Tutto colpo di Joker È stato un vero imbecille Ho passato tutto il giorno a calcolare Pi Greco Perché lui ha connesso la dominatrice Ah, ho accesso ai sistemi difensibili Grazie, signor Morrow Ora deve riattivare il nucleo primario sul ponte macchine Vuoi che io torni a strisciare in questi condotti? Mi piace vedere voi umani in ginocchio Era uno scherzo D'accordo Il condotto alle sue spalle la porterà al ponte macchine Buona fortuna Presenza nemica sul ponte macchine Sono dirette verso la stiva Attivi il motore e io aprirò tutti i portelloni mentre acceleriamo Tutti i nemici saranno eliminati Cosa? E che ne sarà dell'equipaggio? Non ci sono più, Jeff I collettori li hanno presi Ah, merda Sigillo la sala macchine Ho il controllo Eppurazione completata Nessun'altra forma di vita a bordo Chiusura portelloni estiva in corso Invia un messaggio alla navetta di Shepard Digli cosa è successo Messaggio inviato Si sente bene, Jeff? No Ma grazie per avermelo chiesto Tutti quanti? Hai perso tutti quanti E hai quasi perso anche la dannata nave Lo so, d'accordo Io c'ero Non è colpa sua, Miranda Nessuno di noi se n'era accorto Il signor Taylor ha ragione I dati nocivi contenuti nel nucleo dei collettori Erano ancora più sofisticati del virus a scatola nera Inviato dal razziatore Ho sentito che è stata dura Come ti senti? Ci sono un sacco di sedili vuoti qui Abbiamo fatto tutto il possibile, Jeff Già Grazie, mamma La nave è pulita Non possiamo rischiare che succeda ancora Ida e io abbiamo ripulito i sistemi Il sistema di riconoscimento del razziatore è online Possiamo varcare il portale di Omega 4 quando vuoi Non voglio neanche discutere sulla liberazione di una dannata IA Cosa potevo fare contro i collettori? Spezzarmi il braccio contro di loro? Ida ha ripulito la nave, è a posto Vi assicuro che sono ancora vincolata dai miei protocolli di programmazione Anche se non lo fossi, voi siete il mio equipaggio Ida ha avuto diverse occasioni per ucciderci Abbiamo bisogno di tutto l'aiuto possibile Sembra che abbiamo tutto il necessario per salvare l'equipaggio Abbiamo fatto tutto il possibile È tempo di andare ad affrontare i collettori Joker, torna sul ponte Voi altri ai vostri posti Sì signore comandante Quando sei pronto consulta la mappa Al prossimo episodio Grazie a tutti.